Ho sempre odiato la dipendenza da altri, ho sempre preferito il poco, magari subito o presto, ma che fosse determinato da me. Quando noi siamo partiti, parliamo del 90, la moda ci ha servita molto. Non ho mai dato rimpianti, l'unico rimpianto ce l'ho quando vedo qualcuno che piazza per strada e ciasse un occhiale che non è nostro. Quello è l'unico rimpianto che ho perché vorrei mettersi gli occhiali a tutti.